troppo caricato troppo caricato in avanti se tu ti tiri avanti ma sei fuori oh gas eh guarda che te la lancia addosso qua ci stupiscono con effetti spettacolari porco il cane no ascolta rifai un'altra volta non ci crediamo non ci crediamo rifa un'altra volta si perché non vorrei che hai giocato il jolly stavolta quindi rifalo l'hai fatto perfetto stavolta eh non so come hai fatto quella di qui perfetto quello lì perfetto in terza ma non posso andare in seconda no no ma è giusta è giusta spampi continua a dire che devo andare in seconda ma in seconda ce la faccio se fai le zone dipende dalle zone e adesso devi dirglielo al fren che l'hai fatto a zero eh così gli ritorna la fantasia oh a zero a zero come non lo so ma l'ha fatta l'ha fatta anche bene tocca al davanti e scarica perché se no arrivi di coppa terza l'ha fatta vai a prenderla tua muoviti vai che sei adesso oggi sei gasato vai vai guarda che l'hai fatto incazzare adesso deve provare ancora adesso deve provare guarda che arriva su qua eh adesso l'ha fatta lui figurci non la deve fare via allora tu quando hai fatto quello lì ti tiri in mezzo invece no indietro quando arrivi qua che fai questo ti tiri avanti se no il peso ti resta indietro non vieni su più resta lui la tira centrale e centrale ti sgarla sotto cazzarola dai si guarda come fa lui cazzo siamo arrivati al colmo eh siamo arrivati al colmo questo è proprio perché lui fa cielo nel modo sbagliato ma la fa bene va bene va bene va bene allora era il jolly prima dai rifa e fagli vedere come si fa fagli vedere adesso l'ha fatta giusta col peso indietro ma l'ha persa allora allora il cane è sciotto lui è andato di chiede è andato di chiede è andato di chiede non lo so penso perché io lo stavo lì c'è il 4x4 che non lo molla mai che è quello qua ma c'è due atmosfere sì sì è quello neanche sì 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 Grazie.